Torquato Tasso nacque a Sorrento l'11 marzo 1544. Il padre Bernardo era di nobile famiglia bergamasca, gentiluomo di corte e poeta, autore di un poema cavallerisco. Il giovane Tasso nel 1557 si trasferisce con lui alla corte dei Della Rovere ad Urbino, dove entra in contatto con quell'ambiente cortigiano che era destinata ad occupare un posto determinante nella sua esperienza di vita. Nel 59 segue il padre a Venezia e lì, a soli 15 anni, inizia un poema epico sulla prima crociata, il Gierusalemme, lasciandolo però interrotto. Nel 60 va a Padova per frequentare la prestigiosa università di quella città. Qui studia prima diritto e si dedica poi a discipline a lui più congeniali, come la filosofia e la letteratura. A Padova Tasso getta le basi della sua cultura filosofica. Sull'esempio del padre, a soli 18 anni, scrive un poema epico di argomento cavalleresco, il Rinaldo, e comincia a comporre rime d'amore per Lucrezia Bendidio, una dama della duchessa Eleonora d'Este, e anche per Laura Peperara, conosciuta a Mantua. Giovanissimo, Tasso aveva già esperienza di varie corti italiane, come abbiamo visto, Urbino, Mantua, Ferrara, e si era inserito in quel mondo di eleganza mondana e di cultura raffinata. L'altro ambiente destinato a segnare la sua formazione fu quello dell'Accademia, che nel secondo Cinquecento era diventata il centro per eccellenza dell'attività intellettuale. A Padova entra in rapporto con l'Accademia degli Infiammati e fu poi ammesso a quella degli Eterei. Viene poi assunto al servizio del cardinale Luigi d'Este e si trasferisce a Ferrara. La città gli appare meravigliosa, piena di mille forme e di mille apparenze, come scriverà lui stesso. A Ferrara il giovane trascorre gli anni più sereni e più fecondi dal punto di vista creativo. Quella di Ferrara era una delle corti più belle d'Italia, per una lunga tradizione che risaliva fino al Quattrocento. Il poeta si inserisce facilmente nei rituali cortigiani e viene apprezzato da dame e gentiluomini, sia per le sue doti poetiche che per la sua eleganza mondana. Frequenta gli ambienti culturali e stringe rapporti con gli intellettuali più prestigiosi del luogo. Nel 1572 passa al servizio diretto del duca come gentiluomo stipendiato, senza compiti ben precisi. Si può in questo modo dedicare interamente alla poesia. La corte di Ferrara, sin dai tempi di Boiardo e di Areosto, era particolarmente amante della letteratura cavalleresca ed è questo che stimola probabilmente tasso a lavorare al poema epico sulla crociata che già aveva intrapreso nel 65. Vi si dedica dal 70 al 75 e nell'estate di quell'anno legge il poema completo al duca Alfonso. Nel frattempo aveva composto un dramma pastorale, la Minta, e aveva tentato di scrivere anche una tragedia, lasciandola però interrotta. Dopo aver concluso il poema, si rompe anche l'equilibrio felice della sua esistenza. Egli guarda la sua opera con inquietudine e insoddisfazione. È tormentato dallo scrupolo di renderla aderente ai canoni letterari e soprattutto a quelli religiosi. Si sottoporre il poema al giudizio di un gruppo di autorevoli letterati. Questi muovono all'opera delle critiche piuttosto moralistiche. Tasso la difende appassionatamente ma nello stesso tempo incomincia a provare incertezza lui stesso, condivide gli scrupoli che gli vengono insinuati da questi letterati e si sente pronto ad intervenire sul suo poema con taglie e modifiche per renderlo più conforme alle regole. A questi scrupoli letterari si collegano anche quelli religiosi. Egli infatti viene assalito da dubbi maniacali sulla propria ortodossia cattolica e nel 77 si sottopone spontaneamente all'inquisizione di Ferrara per eliminare del tutto anche i propri dubbi. Ovviamente viene assolto ma questo non lo soddisfa. A questo si aggiungono sintomi inquietanti di una mania di persecuzione che diventerà sempre più grave con il passare del tempo. Tanto che un giorno pensando di essere spiato da un servo gli si scaglia contro con un coltello. Il duca lo fa rinchiudere nel convento di San Francesco ma egli ne fugge. Torna a Sorrento, si presenta alla sorella sotto mentite spoglie annunciandogli la sua morte. Questo lo fa per mettere alla prova l'amore della sorella. Anche questo è ovviamente un comportamento che è segno di turbe psichiche e che rivela anche una profonda insicurezza e il bisogno di essere amato. Di fronte al dolore della sorella il poeta poi svela la propria identità e trascorre con lei alcuni giorni. Torna poi a Ferrara ma riprende i suoi viaggi per l'Italia. Va a Mantua, a Orbino, a Torino, sempre sperando in una sistemazione. Torna poi a Ferrara proprio mentre si celebrano le nozze, le terze nozze del duca Alfonso con Margherita Gonzaga. Non trovando l'accoglienza calorosa che si aspettava dà in escandescenze tanto che il duca lo fa rinchiudere come pazzo furioso nell'ospedale di Sant'Anna. Qui lui rimane sette anni. Dopo un periodo di totale segregazione gli viene concessa una certa libertà che gli permetteva di ricevere anche visite, di studiare e di scrivere. Riprende così la sua attività letteraria e a Sant'Anna scrive molte rime, molte lettere e anche buona parte dei dialoghi. Tuttavia dovette subire gravi sofferenze sia fisiche che psichiche. Era turbato da incubi, da allucinazioni. Era convinto che ci fosse un folletto che gli metteva disordine nelle carte, che un mago lo perseguitasse con degli incantesimi malvagi. Il suo stato d'animo quindi oscillava tra la mania di persecuzione che gli faceva credere di essere vittima di un'ingiustizia e la tendenza ad autopunirsi che lo faceva sentire in colpa anche nei confronti del principe che lo aveva accolto. In questo periodo si rivolge ininterrottamente a principi intellettuali per difendersi ma anche per chiedere soccorso, quindi una persona che soffre. Negli anni in cui il poeta era rinchiuso a Sant'Anna, la Gerusalemme venne pubblicata senza il suo consenso, in un'edizione che era sia incompleta che scorretta. Questo ovviamente lo turbò in maniera profonda. Non solo, il fatto che questa composizione ottenesse anche un grande successo di pubblico scatenò una violenta polemica tra quelli che lo sostenevano e che addirittura lo ritenevano superiore a il furioso e altri che invece lo denigravano. Il poeta ne viene amareggiato e scrive addirittura un'apologia, cioè una difesa della Gerusalemme liberata. Inoltre si dedica nello stesso tempo ad una revisione completa dell'opera in modo da renderla più conforme ai precetti moralistici. La prigionia finisce nel 1586 quando il duca Vincenzo Gonzaga di Mantua ottiene che il poeta venga affidato alla sua custodia. Mattasso non ce la fa a restare a Mantua. Negli ultimi anni soggiorna a Roma e poi a Napoli cercando soprattutto l'appoggio degli ambienti ecclesiastici. Compone molta poesia encomiastica per ringraziare chi lo ospita e anche poesia di ispirazione religiosa che riflette un po' questo suo bisogno di cercare nella religione un conforto alle sofferenze. Si concentra soprattutto sul rifacimento del poema che pubblicherà nel 1593 con il titolo di Gerusalemme conquistata, non più liberata, Gerusalemme conquistata. Nel 1594 Papa Clemente VIII propone che venga incoronato poeta a Roma ma Tasso, ammalatosi gravemente, muore nell'aprile del 1593. Tasso incarna la figura del poeta cortigiano del 500. La sua vita infatti si svolge tutta all'interno della corte ed è legata sia materialmente che intellettualmente alla corte stessa. Da un lato c'era bisogno dei principi dai quali il poeta dipende totalmente per la sua esistenza materiale. Dall'altro egli ritiene che solo nella corte possa essere consacrata la fama di un grande poeta e che solo lì si possa trovare un pubblico capace di apprezzare la sua poesia. Anche Ariosto era stato un poeta cortigiano ma sentiva il bisogno di essere autonomo rispetto alla corte. Era convinto che la sua realizzazione umana dovesse avvenire fuori dalla corte. Non è così per Tasso perché per lui non c'è altro luogo che la corte stessa. Comunque abbiamo visto che Tasso è un poeta lacerato da contraddizioni. Da un lato celebra la corte, dall'altro prova avversione per essa. Da un lato cerca di scappare, da un lato cerca di tornare. Sono contraddizioni che rappresentano quelle di un'età di grandi tensioni e di grandi conflitti in cui incomincia a entrare in crisi il ruolo dell'intellettuale che era stato elaborato nella cultura cortigiana del Rinascimento.